La scuola deve unire e non dividere. Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inaugurato l'anno scolastico 2018-2019 all'Isola d'Elba, davanti a una folla di studenti provenienti da 122 scuole di tutta Italia, riunite nel Palazzetto dello Sport di Portoferraio. Con il Capo dello Stato è arrivato anche il Ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti. La cerimonia, trasmessa in diretta sulla RAI e condotta da Flavio Inzinna e Claudia Gerini, si è svolta al chiuso anziché all'aperto, come previsto, a causa del maltempo. Il Capo dello Stato, nel suo intervento, ha toccato i temi del bullismo, della sicurezza degli edifici scolastici, della tragedia delle leggi razziali di cui ricorrono gli 80 anni e delle opportunità, ma anche dei rischi, del web per i giovani. In prima fila, ad ascoltare Mattarella, ha anche il Presidente della Regione, Enrico Rossi. Naturalmente la Toscana è stata coinvolta più di tutte le altre regioni. Questo ci fa molto piacere. Il Presidente ha fatto un discorso bellissimo, richiamando tutti, ciascuno di noi, alle proprie responsabilità. E' toccante, in un quadro di una bella trasmissione. Io non avevo mai visto questa trasmissione, però piena di contenuti, presentati in modo semplice, ma chiaro. Anche a ragazzi, una trasmissione per tutti, davvero tutti bravi. Mattarella ha ricordato anche le giovani vittime del crollo del Ponte Morandi di Genova, che quest'anno non sono potute tornare sui banchi al primo suono della campanella. Poi, dall'Elba, definita una bellissima isola, ha rivolto uno speciale saluto a tutti coloro che nelle isole e nelle zone periferiche vivono, studiano e lavorano.